Mi avete fatto due orecchie come Dumbo, hermanos disperati, smettetela di fischiare. Non lo sapete qual è la bellezza delle anime perse in un paese allo sfascio? Che all'ultimo momento i giusti si risvegliano, le sentinelle solitarie del deserto accendono in falò. La vita vi offre l'ultima possibilità di riscattarvi, uno per uno, perché le grandi scelte di libertà si fanno da soli. Il branco non sceglie mai. Buonasera a tutti. Abbiamo appena approvato un nuovo DPCM frutto di un intenso dialogo non solo al nostro interno con i ministri, le forze di maggioranza, ma anche con le regioni, gli enti locali e il comitato tecnico scientifico. Ho appena informato anche i presidenti dei due rami del Parlamento e i leader dell'opposizione. Questo provvedimento dovrà consentirci di affrontare questa nuova ondata di contagi che sta interessando severamente non solo l'Italia ma l'intera Europa. Tutte le attività di ristorazione, tutte pub, ristoranti, bar, gelaterie e pasticcerie sono consentite dalle ore 5 del mattino a mezzanotte se il consumo avviene ai tavoli. Ho appena informato anche i miei dati, a tutti 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 i miei dati. Grazie a tutti.